ciao a tutti oggi è giovedì 22 giugno 2023 allora vi volevo far vedere un po questa trappola qui che mi ha consigliato fabrizio del sul gruppo telegram me l'ha consigliata mesi fa io ne ho acquistata prima una poi due adesso vi volevo parlare chiaramente non è una recensione commerciale non sono acquistata io non vi voglio vendere niente non vi voglio voglio solo far vedere questo prodotto che è molto valido io sono contento e mi piaceva farlo vedere perché io sono venuto conoscenza attraverso fabrizio che mi ha spiegato un po perché allora io qui nell'orto ho un grosso problema con le arvicole e specialmente in questa zona qui dove i lamponi le more eccetera e anche nell'altro orto di là perché perché ho messo un sacco di cipato per fare pacciamatura e si vede che ci cova sotto non so trovano il terreno morbido girano e fanno dei danni assurdi cioè io non riesco più a mettere i porri i radicchi invernali i topinambur mi mangiano tutto ok loro partono cominciano trovi buchi le coste le erbette ma ho mangiato delle piante anche alte 60 cm dopo le tira in su ti mangiano le radici perché le arvicole non so se lo sapete sono tipo dei topi da campagna più pelosi non sono tanto grandi però mangiano la roba cioè le talpe scavano e basta mangiano gli insetti invece le arvicole fanno dei danni mangiano la roba mangiano le radici e ti distruggono ti distruggono la roba ti distruggono come dicevo i porri qualche cipolla ma le cipolle ne mangiano poche e poi ho messo i carciofi i carciofi per fortuna non ci sono ancora andati accanto ma mi hanno detto tutti che i carciofi è un disastro cioè loro te distruggono ti mangiano tutto quindi io non sono una persona che ama uccidere gli animali anzi assolutamente ci tengo a precisarlo solamente che quando ci troviamo a dover coltivare ci troviamo a non avere alternativa perché anche anche i gatti io ne ho 5 o 6 di gatti ma non li prendono chiaramente girano sottoterra loro c'è nei tunnel e girano e mangiano e i gatti non riescono ho provato che con la trappola di arduino che trovate il video nel qui sul canale ho provato anche con quella metterci del frumento metterci la nutella metterci le fave niente non riesco a farle venire su perché se se riuscivo a intrappolarle con quella le prendevo poi le andavo a liberare il bosco lontano e niente ho dovuto utilizzare questa trappola allora questa trappola ne trovate tanti modelli di tante marche eccetera voi prendete quello che ne avete voglia l'importante voglio far vedere il meccanismo come funziona ha diciamo una molla baionetta che viene utilizzata così viene viene tirata tirata su ok e poi non so se vedete il meccanismo dentro praticamente il mecca e questo si sposta e se noi andiamo a toccare si muove e lei scatta adesso non voglio lasciarci il dito dentro così però lui dopo si lo molla viene giù vedete scende ok allora chi lo vende consiglia di trovare un tunnel con una sonda andare a tastare dove è il tunnel ok poi vendono un diciamo un tipo una fresa tonda ve lo chiamo frese non è una fresa tipo una paletta tonda che si gira si fa un foro e dopo si infila dentro questo foro bisogna tenerla pulito eccetera io non l'ho presa quella ho provato a farmene una io ma con scassi risultati e quindi cosa facevo io allora prima facevo così prima praticamente andavo a vedete questo un tunnel delle arricole non so se si riesce a vedere praticamente arrivano da questa parte uscivano di qua le prendevo la mettevo qua magari l'importante è tenerlo pulito bene con le dita andiamo a togliere la terra così lo puliamo bene magari lo sfondiamo appena e andiamo a posizionare qua così come vedete all'inizio solamente che se arriva dall'altra parte non la prendi perché dopo esci eccetera poi sopra ci mette un mattone o io uso un telo vecchio tipo di quelli da pacciamatura questi qua vedete che c'è qualche pezzettino poi lo faccio vedere meglio e qualcuno l'ho presa così dai l'ho presa perché essendo ce ne tantissime eccetera e l'importante è che il foro sia bello pulito spero che si veda così sia da una parte sia dall'altra non deve esserci terra non deve essere sfonda e poi dovete farlo dove c'è dello spessore cioè dove non si sfonda perché se se lo fate tipo in mezzo dove c'è la pacciamatura tende a sfondarsi e i topi se ne accorgono non passano le arvicole ok qui vi faccio vedere un'altra tecnica che trovo migliore allora in pratica vedete anche qua c'erano le arvicole cioè loro girano fan buchi cioè qua non mi immagino cosa ce ne sia lì in mezzo ai naponi qui avevo i topi in ambu l'anno scorso metalli ha mangiati loro infatti dopo qualcuno l'ho presa la in alto dove hanno allora adesso come faccio come faccio vi faccio vedere alla postazione che ne ho appena presa una allora in pratica io ho trovato un foro un cunicolo abbastanza in basso vedete no due di trappole sono diverse perché acquistate in due volte sono quelle cinesi non è non è proprio quella originale allora c'è un tunnel qua dove ho il dito non so se si riesce a vedere qui e poi ce n'è uno di qua una volta identificato il tunnel lo pulite bene pulite bene con la mano eccetera scavate appena fondo cioè andate un attimo sotto vedete io uso la paletta quella questa qua e poi andate a mettere questo qua così andate a sistemare l'acqua e da questa parte così poi adesso con una mano mi risulta difficile importante che sia proprio all'uscita girato nel verso giusto la baionetta su e poi mettete io uso questo telo qua lo andate adesso con una mano difficile lo andate a chiudere perché non deve non deve passarci non deve passarci il sole adesso con una mano impegnativo facciamo un attento vi faccio vedere il risultato importante che sia bello coperto così mettete magari un sasso che le tenga fermo così vedete deve essere dritta questa cosa inclinata così mettete qualcosa in modo che sia bello coperto che non vada dentro la luce vedete così e poi vedete che con questa tecnica se trovate il passaggio giusto è fatto e pulite bene il tunnel eccetera qualcosa prendete e se vedete che nel paio di un giorno o due non avete preso niente trovate un altro posto perché o passa perché passano alla svelta passano cioè non è non è che se lasciate se vedete che dopo un giorno o due non avete preso cambiate posto l'importante come dicevo tunnel pulito sfondiamo bene la trappola dritta dritta e il tunnel che abbia lo spessore che non si sfondi che non passi la luce potete vedete non questo ma questo qua sono non l'ho messo potete anche così è importante che riesca a scattare così vedete bello stabile e vedete che che qualcosa prendete io ve la consiglio ma me l'ha consigliata vedete qua che un sacco di pacciamatura cioè i topi girano fanno danni vedete anche qua ho messo le arbette adesso sono piccole ma quando crescono dopo cominciano e arrivano e niente volevo solo farvi vedere un po questa trappola non a fini commerciale una fine di venta perché non mi interessa nulla è solo per farvi vedere un esempio di di come eliminare un po di di arvicole se ne avete tante nell'orto perché è una piaga c'è poco da fare poi se mettete come dicevo tanta pacciamatura è sicuramente è sicuramente un problema infatti quando cammino adesso qua mai non si vede ma trovo sempre quando cammino sento proprio che sfonda il terreno perché girano e ce ne sono tante e poi vedete tipo qua manca sempre dei lamponi perché sicuramente non so se li mangiano loro ci girano perché vedete qua sono bellissimi qua ci manca sempre lamponi continuamente gli spariscono si vede che lì c'è un nido qualcosa oggi erano spesso e nient'altro se avete bisogno di altre informazioni scrivete pure nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo telegram del progetto biodiversità condivisa e che siamo a completa disposizione va bene vi ringrazio di aver visionato questo video vi saluto grazie mille ciao e alla prossima ciao ciao